Un'intera giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e dell'inclusione sociale della disabilità. Anche quest'anno al Parco Pertini è tornata la manifestazione Vivere lo Sport Arezzo Abilia, giunta alla sua undicesima edizione, promossa come sempre da Coni Wisp di Arezzo in collaborazione con il Comitato Italiano Paraolimpico. Io credo che queste due unità che si mettono insieme per lanciare un messaggio in cui di fatto si fa integrazione attraverso lo sport sia il messaggio più bello che possa esistere nell'ambito sia dello sport sia del volontariato. 27 punti sport, uno per disciplina, dalla pallavolo al calcio, dalla scherma all'equitazione, aperte a tutti coloro, soprattutto giovani, che hanno voluto sperimentare uno più sport all'insegna dell'integrazione dei disabili. L'obiettivo delle nostre associazioni, anche quella dei nostri familiari, è proprio questo, usare lo sport come mezzo per creare le occasioni che possono portare i ragazzi, bambini, adolescenti, adulti, giovani adulti a vivere delle giornate come questa, con i parietà, senza difficoltà, giocando tutti insieme, facendo vedere anche le loro abilità. Quest'anno inoltre uno spazio è stato dedicato anche al volontariato grazie alla presenza del Celsvot. Noi in questa manifestazione in particolare abbiamo lo stand che è alle mie spalle, che serve a orientare, a formare, a dare le indicazioni per chi vuole impegnarsi nel mondo del volontariato. Partecipiamo a un evento organizzato dalla WISP e dal CONI, nel quale lo sport e la disabilità vanno a braccetto, quest'anno uniti anche al mondo appunto del volontariato, in una sinergia virtuosa che credo possa essere ripetuta utilmente anche nel futuro.